Come trovare realmente la tua passione e come trasformare questa passione in un business? C'è il detto famosissimo, se come lavoro fai ciò che ti piace non lavorerai nemmeno un giorno. In questo video andremo a esplorare questo detto, andremo a scoprire cosa c'è di vero, cosa c'è di falso, come poter trovare realmente la tua passione e quindi far sì che il lavoro diventi una passeggiata. Ti prometto assolutamente che se arriverai fino alla fine, troverai questo video di immenso valore e applicherai tutte le cose che ti dico, allora non ci sarà modo per te di non vedere i risultati nel tuo business e nella tua vita. Ma prima mi presento, sono Branfe, aiuto imprenditorio aspiranti tali a guadagnare di più online in maniera prevedibile e concreta. Se vuoi vedere più video di questo genere dove si dà la priorità alle informazioni piuttosto che all'intrattenimento, allora vuoi lasciare un like in maniera che l'algoritmo di YouTube ti consigli sempre più video simili a questo. Questo video sarà molto breve e dritto al punto perché voglio darti le informazioni che puoi sfruttare subito. Quindi iniziamo. Bene, ti darò una notizia che non ti piacerà. Se stai cercando la tua passione, il metoduccio per riuscire a non lavorare nemmeno un giorno nella tua vita, sei uno sfigato che non avrà mai, mai successo nella vita. Questo semplicemente perché anche se fai quello che ti piace, ci saranno sempre dei giorni in cui non avrai voglia di farlo e in quei giorni non ti puoi appellare al fatto Ehi, mi piace, ma devi appellarti alla tua disciplina che non avrai costruito perché appunto non vuoi lavorare nessun giorno della tua vita. Non ti dico che non devi fare ciò che ti piace, non ti dico che non devi trovare la tua passione, anzi è fondamentale, e in questo video ora ti spiegherò come, ma ti sto dicendo che il fatto che tu sia appassionato a una cosa, il fatto che lavori sulla tua passione, e la trasformi in un business, non vuol dire che non lavorerai nemmeno un giorno nella tua vita. Quella frase all'inizio è una cazzata, è ovvio che devi lavorare, è ovvio che anche se fai la tua passione come modello di business, ci saranno delle cose che devi fare che non rientreranno proprio nelle task principali della tua passione e quindi dovrai sviluppare una forte disciplina e costanza in maniera da poter vedere i risultati e mantenerli a lungo termine. Ma come fare innanzitutto a trovare questa tua passione? Semplice, non overthinkare, non pensarci troppo, tu sai già qual è la tua passione, solo che stai cercando un qualcosa che proprio ami visceralmente fare per 24 ore della tua vita, per 24 ore della tua giornata. Questa cosa, spoiler, non esiste, cioè biologicamente non siamo fatti per ciò, non esiste, non esiste una cosa che faresti per 24 ore tranne scopare e cose così, però per il resto, anche se hai la passione per il tennis, la passione per il bird watching, non è che lo faresti per 24 ore, oppure magari ci sono dei giorni dove non hai voglia di farlo, questo l'avrai tranquillamente notato anche tu, quindi ti voglio dire che non è che devi trovare la tua passione, perché c'è un'idea sbagliata di cosa voglia dire passione, la passione non è quella cosa che vuoi fare sempre ogni giorno, la passione è un qualcosa che ti piace, ma potresti anche non voler fare, c'è una mistificazione delle passioni oggi, che sta fottendo il cervello a molte persone, questo è anche da tutti i social media che dipingono le persone come, cioè tu vedi magari, non lo so, una certa influencer, un certo influencer e dici, minchia vorrei avere una passione come la sua, che fa questa cosa tutto il giorno, tutti i giorni, guarda qua quanto è costante, bla 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 bla, ma in realtà non è così, è quello che ti vuol far credere, o comunque anche inconsciamente è quello che vuole condividere, magari non ti vuol far credere che è la sua passione totale, ma tu la vedi come tale semplicemente perché sei esposto a tot storie, tot storie al giorno che parlano solo di quelle, e tu pensi che lui nella sua vita faccia solo quello, quando in realtà non è così, per esempio la mia passione è fare i video, è il business, anche parlare di business, insegnare, migliorare le persone, più che fare i video, insegnare alle persone, migliorare quello che, i loro obiettivi, i loro risultati, i loro business eccetera eccetera, ma non voglio fare per tutta la giornata questo, assolutamente, ma è la mia passione più grande, ok ma non è che faccio solo questo e non faccio altro, magari voglio giocare a scacchi, magari voglio fare qualcos'altro che è sulla mia passione principale, ma appunto la voglio fare, ci sono dei giorni in cui non voglio registrare, in cui mi rompo le palle, e lì mi devo appellare alla mia disciplina, alla mia costanza, e non alla mia passione, perché può essere la passione più grande, ma se un giorno mi rompo le palle di fare una cosa, non la faccio, quindi per trovare la tua passione, non pensarci troppo, ce l'hai già sotto gli occhi, sai già che più o meno, cosa più o meno ti piace, devi semplicemente trasformarlo in un business, come si fa a trasformare le proprie passioni in un business? ci sono vari modi, il modo che ti consiglio io, è esponendoti, è sintetizzando, cosa intendo per questi due termini, esponendoti è una cosa chiave e cruciale, che devi fare, che molti pensano, cioè vogliono evitare, vogliono trovare un modo di evitare, è sintetizzando, è vedere i progressi che hai fatto in quella tua passione, in quell'ambito che ti interessa, è sintetizzare la strada che hai fatto, in maniera da darla a persone che vogliono fare la tua stessa strada, per esempio io sono passato da 0 a 30.000 euro al mese, sintetizzo tutto quello che mi è servito per arrivare nei miei video, e li do gratuitamente al pubblico che poi comprerà da me dei servizi, che possono permettere di arrivare a quelle cifre, o comunque migliorare il loro business in maniera più facile, più semplice e guidata, e mi sto esponendo perché faccio video del genere, non ti dico che devi fare video, anche se te lo consiglio fortemente, creare un personal brand, esporsi nei social è utile, ma per esporti intendo esci, fai quel meeting, conosci quelle persone, vai a fare incontri, vai nella tua città dove fanno degli incontri di business, delle cose, vai in dei luoghi visitati da imprenditori, da persone facoltose, eccetera eccetera, esponiti, fatti vedere, presentati in questi luoghi, fai quello che devi fare, è solo in questo modo riuscire ad ottenere risultati, se vuoi ottenere il metodo senza esporti, questo non è il canale che fa per te, vai dai canali dove ti truffano e ti ruberanno soldi, perché spoiler, non esiste nessun metodo, che ti piaccia o no, puoi anche dire, puoi negare questa cosa, puoi dire, Brunf, ma non è vero, sei un coglione, semplicemente perché non ti vuoi esporre, ma, mi dispiace, dirti che non otterrai mai i risultati, e non, non te lo devo nemmeno provare, questa cosa, cioè prova a fare tutto quello che vai da altri guru, compra servizi, corsi a 4000 euro, sul faceless channel di youtube, come fare soldi senza faccia, eccetera eccetera, poi scoprirai che non funziona, perché non otterrai risultati, e avrai buttato solo soldi, e forse dirai, ma sai che Brunf aveva ragione, ascoltiamolo un attimo, che mi può, insegnare come sport, come non vergognarmi più, come realmente espormi, ritornando al discorso, magari la tua passione è il calcio, sai come fare gol, sai come fare questo, sai come fare quell'altro, decidi di sintetizzare tutto quello che hai imparato, in un corso, in dei video, eccetera eccetera, e avrai un prodotto che puoi vendere a chi parte da zero, o a chi comunque non ha fatto quello che hai fatto tu, attenzione, non devi essere un esperto, cioè non è che devi essere il massimo esperto di calcio, devi essere totti, per vendere un corso sul calcio, puoi aver fatto anche un passetto in più rispetto ai tuoi clienti, e i tuoi clienti saranno disposti a pagarti, perché vogliono fare quel passino, come fare però esporti, a sintetizzare, se non sai farlo, se ti vergogni, se non vuoi, perché sei ancora un bambino, oppure, se dici no, non sono fatto per questo, bene, in questo caso devi lavorare sulla tua salute mentale, mini corso sulla salute mentale, in un minuto, come lavorare sulla salute mentale, eliminando le cattive abitudini, introducendo le buone, quali sono le cattive abitudini, le cattive abitudini sono tutte quelle abitudini, che ti danno il piacere a breve termine, ma niente a lungo termine, videogiocare, fumare, eccetera, eccetera, quali sono le buone abitudini, il contrario, quelle che ti danno poco a breve termine, quindi non è che ti danno un piacere smisurato, ma a lungo termine ti portano alla vita che desideri, quindi lavorare, meditare, leggere, scrivere, mangiare bene, andare in palestra, tutte cose che non ti danno tanto piacere nel breve termine, ma a lungo termine ti fanno diventare una persona migliore, ti fanno guadagnare di più, ti fanno mettere su famiglie, eccetera, eccetera. Come fare adesso però a eliminare le cattive abitudini? Sostituendole con delle buone abitudini, ti consiglio di leggerti Atomic Habits sull'argomento, oppure guardare altri miei video in cui ho parlato di questo, la dopamina, come funziona, eccetera, eccetera, basta ai cerchi dopamina, Bramf, bla bla bla. Una volta eliminate le cattive abitudini, aver introdotto le buone abitudini e quindi aver aumentato la tua salute mentale, tu vorrai esporti, non sarai più il ragazzino che si vergogna, o la persona che pensa che non sia fatta per lui, no, sarai un vero uomo, una persona che prende la vita dalle palle, come si suol dire, e si va a prendere ciò che vuole, perché avrai una salute mentale a posto, non avrai paura di niente, di queste cazzetine, e non sarai un piccolo nerd che gioca ai videogiochi. Bene, spero che questo video ti sia stato d'aiuto, se è così, allora guarda il primo link qui sotto in descrizione, troverai delle informazioni, dei contenuti gratuiti assurdi. Allo stesso modo, guarda il video qui, che sta apparendo a schermo in questo momento, che è integrato al video che hai appena visto, può realmente cambiare le carte in tavola, per quanto riguarda il tuo business online, mi raccomando.